Mancano 30 secondi alla fine della partita ma comunque pietosi, pietosi la Juventus, sto parlando della Juventus veramente Ma che brutta Juve, ma che brutta Juve, 1-1 ma io guardate, io conto come se avesse vinto il Milan Perché tanto passa la Juve ragazzi, perché si giocherà allo stadio, si giocherà comunque tra un po' di tempo la Juve Sicuramente non può essere peggio di quella vista stasera, che è diciamo nel periodo più negativo della stagione sicuramente la Juventus Nonostante siamo a febbraio, che dovrebbe essere invece il periodo in cui la Juve viene fuori Perché è da inizio anno che diciamo, settembre dicevamo, eh ma ci vuole un po' perché la Juve ingrani A ottobre, eh ci vuole un po' a novembre, no ma ingrani era poi a febbraio e invece un cazzo, zero Inguardabili, inguardabili oggi però come detto passa la Juve perché mancheranno Castileco, Teo Hernandez e Ibrahimović Al ritorno, e sono dei giocatori fondamentali per il Milan E attenzione occasione Milan, parabuffon, parabuffon, quindi il mio ente Quindi io non lo metto neanche in discussione, tanto finisce adesso la partita, il passaggio del turno Poi le partite, il pallone rotondo si giocano 11 contro 11, però appunto parlando della partita di oggi Malissimo, malissimo, malissimo la Juve, veramente imbarazzanti Penso che anche i tifosi della Juventus siano d'accordo, siano arrabbiati, al di là poi del risultato che alla fine è positivo Ma la Juve non ha fatto un tiro in porta in tutta la partita e non un'azione elaborata, congegnata, zero Zero e il gol alla fine è arrivato con una rovesciata di Ronaldo e lì Calabria Perché Calabria ha giocato bene, quindi io spero che i tifosi del Milan, che l'hanno massacrato tanto Oggi non se la vadano a prendere con Calabria perché ha giocato veramente una grande partita Aveva un avversario scomodo, lì sulla destra Però lì ha allargato il braccio con le regole di adesso Ma io penso che con le regole, forse di qualche anno fa, è un rigore che l'anno fa non era solare Ma si poteva dare, adesso con le regole di adesso assolutamente è rigore Perché ha un tiro diretto verso la porta e Ronaldo sappiamo che non li sbaglia mai Ecco in quell'occasione lì lui ha una grande forza di rimanere freddo Ne ha segnati tanti rigori importanti, molti più importanti di questo, quindi ha segnato e tutto Però partiamo dal presupposto che comunque il mercato della Juve, lo possiamo dire A febbraio è stato a dir poco, secondo me fallimentare perché Rabiot e Ramsey sono due giocatori scarsi, lo posso dire? Perché vedendoli, zero, zero a totale O comunque nel campionato italiano sono due giocatori scarsi Alessandro Murgi, Simone e Missiroli sono più forti di Ramsey e Rabot nel campionato italiano Poi, Danilo, non è scarso, però comunque è sempre rotto, quindi giocatore inutile De Ligt, alla fine comunque è stato un acquisto positivo perché il ragazzo è forte Ha fatto tante cappellate, però il ragazzo comunque è forte E Iguain ragazzi, cioè sì, l'abbiamo comunque alloggiato, che poi l'inizio è tutto Sembrava un giocatore magari che tanti lo consideravano finito Ma se andiamo a vedere i gol, quanti gol ha fatto? 4-5 gol ha fatto C'è, c'è tanti giocatori, centravanti Serie A in questo momento nettamente più forti di Iguain Ecco, passando da Immobile, da Lukaku, da Lautaro, ma anche da altri Ecco, voglio dire, Ibra a me è sempre più forte di Iguain in questo momento Poi, per carità, in un gioco diverso, caratteristiche diverse Quindi il mercato innanzitutto fallimentare Sarri, disastroso, perché adesso lo possiamo dire, in una squadra così Che sicuramente ha dei limiti La Juve non è, io non la metto tra le prime otto di Europa in questo momento Però non puoi presentarti a San Siro contro una squadra al Milan Che per carità ha dei valori, ma non è sicuramente tra le top del nostro campionato In questo momento, in questo momento Senza fare un'azione Voglio dire, sei la Juve, non puoi Oggi proprio la Juve ha toccato il fondo Al di là poi che il risultato è positivo Milan, che alla fine come il derby Gioca bene, gioca bene, però ha quelle ingenuità Che alla fine contraddistinguono una grande squadra Come la Juve, che anche quando gioca male Magari il pareggio lo porta a casa Invece una squadra che è ancora una squadra mediocre Ha dei valori, il Milan Perché ragazzi, un Rebic che Tanti, io so, i youtuber milanisti Che non capiscono un cazzo Lo criticavano Io feci un video quest'estate di si Rebic è un grande giocatore Poi ha fatto male Perché problemi di ambientamenti Croati, sappiamo, sono anche un po' delle teste matte Però Rebic è un giocatore straordinario Fisicamente, tecnicamente A potenza, a tiro, a senso del gol Voglio dire, oggi ha fatto un gran gol Ma è al di là di quello Una grande partita Poi con Ibra si intendono molto bene Ha sulle fasce giocatori come ragazzi Ternandes, Castileco Che sono due ottimi giocatori Castileco veramente lo sto rivalutando Io non so, Castileco l'hanno dopato Cioè io lo consideravo un giocatore veramente Ma non scarso di più E invece tanta roba Castileco è cresciuto tanto Quindi comunque anche il lavoro di Pioli Che non sarà un grande allenatore Ma il lavoro di Pioli Anche io ho visto oggi, ripeto Calabria Che sì, Kier Giocare bene a calcio Kier non è stato messo in difficoltà Quello è vero Perché alla fine la Juve Secondo me al di là poi delle critiche Che ho mosso i Guain Aveva bisogno di una prima punta Fin dall'inizio Perché Ronaldo ha bisogno Di una prima punta vicino Poi, cosa che non ha detto L'unico della Juve Alla fine a predicare nel deserto È stato Paolo Di Vala Che oggi merita nove in pagella Perché veramente Giocava da solo a calcio Era l'unico che dava del tuo al pallone In questa squadra Quindi, comunque Buon Milan Io gioco tutto sulla Juve La Juve secondo me È già in finale E Chiudo Faccio ancora una piccola parentesi Matuidi, ragazzi Matuidi veramente È un Obrobrioso Obrobrioso Io ragazzi Chiudo il video Non mi guardo neanche in faccia Quando parlo di Matuidi Perché veramente è scandaloso Bella Bella